Ha creduto di essere stato vittima di una manovra scorretta un 31enne che l'altra sera nella zona di Colceresa ha perso le staffe nella sua auto mettendosi all'inseguimento di un'altra vettura con a bordo una donna. Raggiunta, l'uomo ha costretto la conducente a fermarsi al centro della strada iniziando a insultarla, minacciandola e colpendo il finestrino con calce e pugni. I carabinieri della stazione di Marostica, su segnalazione della donna aggredita, hanno individuato il 31enne denunciandolo.